Buonasera, ben trovati. Sta per scadere, mancano poche ore, la tregua dichiarata in maniera unilaterale da Vladimir Putin, dal presidente russo in Ucraina. Subito in apertura del giornale vi racconteremo com'è andata questa giornata in cui si celebra il Natale ortodosso. Il 7 gennaio lo sapete perché in realtà la Chiesa ortodossa è legata ancora al calendario giuliano. Vedrete che in questa giornata la religione e la politica si intrecciano in maniera molto forte. Capirete perché. Vi dico subito che in realtà da ambo le parti, sia da parte di Kiev che di Mosca, c'è stato uno scambio come ieri, reciproco di accuse su chi abbia volontariamente interrotto la tregua e i bombardamenti che si sono concentrati soprattutto nella zona di Kherson e nel Donbass. Ma c'è una novità importante dal punto di vista militare perché secondo i servizi segreti ucraini Mosca starebbe preparando una nuova chiamata alle armi a marzo prossimo di circa 500 mila coscritti. Poi vedremo come sta reagendo il regime iraniano alle manifestazioni e sta reagendo in maniera sempre più proattiva. Da una parte con le esecuzioni, sembra assurdo dirlo così perché si tratta di vite umane che vengono spezzate. Oggi ci sono state due esecuzioni all'alba a Teheran. Vi dicevo da una parte con le esecuzioni che continuano e dall'altra anche dal punto di vista politico, con una mossa che non va sottovalutata perché la guida suprema iraniana, Khamenei, oggi ha sostituito il capo della polizia iraniana. Ufficialmente perché il mandato era terminato, era scaduto, ma ufficiosamente, secondo diverse fonti locali, perché non sarebbe affatto soddisfatto di come è stata gestita la repressione delle manifestazioni. Dunque torneremo su questo. Per quanto riguarda la politica italiana, sta lentamente riprendendo le attività dopo la corsa, forse è nata per l'approvazione della legge di bilancio di fine anno. Nel centro-sinistra il PD è concentrato sul prossimo congresso e sulle primarie, mentre nello schieramento opposto si discute della possibilità di un partito unico del centro-destra. È una proposta che ha tirato fuori Berlusconi i giorni scorsi e che è importante perché potrebbe avere anche dei riverberi a livello europeo. In realtà sulla stampa le perplessità della Premier Giorgia Meloni erano già emersi, ma oggi sentirete delle dichiarazioni molto più assertive su questo argomento. L'idea di questo partito unico era nata un po' sulla falsariga di quello degli Stati Uniti, del partito repubblicano. E proprio a proposito di questo vi racconteremo come è finita l'elezione dello speaker della Camera degli Stati Uniti. Kevin McCarthy alla fine, alla quindicesima votazione, ce l'ha fatta, ma vi racconteremo anche che concessione ha dovuto fare ai ribelli del partito repubblicano per essere eletto. Tutto questo mentre l'America è ancora una volta sotto shock per un episodio legato alla violenza e alle armi, questa volta davvero raccapricciante. Un bambino di appena sei anni che ha sparato alla maestra e l'ha ridotta in fin di vita all'interno della sua classe. Torneremo poi su diversi altri argomenti sul Qatargate. Ci sono novità soprattutto per la figlia di Panseri. Torneremo sulla vicenda di Alfredo Cospito perché un nutrito gruppo di giuristi intellettuali sta firmando un appello perché gli venga sospeso il 41 bis anche perché le sue condizioni di salute sono davvero molto gravi. Oramai è l'ottantesimo giorno di sciopero della fame. E torneremo naturalmente sulla morte di Gianluca Vialli perché su questo ha rotto il silenzio la persona che forse gli è stata più vicina in questi anni, il CT della Nazionale, Roberto Mancini. Lo sentiremo intanto tra 30 secondi o poco più, sentiamo i titoli. La tregua per il Natale ortodosso si conclude a mezzanotte ma è stata rotta da raid e dalle accuse reciproche. Mentre Putin ha partecipato in solitudine alla messa nella cattedrale dell'Annunciazione, Zielewski ha sospeso la cittadinanza a 13 sacerdoti della Chiesa Ortodossa Ucraina del Patriarcato di Mosca. Secondo Kiev, Putin è pronto a ordinare la mobilitazione di altri 500.000 coscritti in aggiunta ai 300.000 che erano stati richiamati ad ottobre. In Iran sono stati impiccati altri due manifestanti. L'Unione Europea si dice sconvolta e chiede di fermare la serie di esecuzioni. All'insegna del pugno duro però la guida suprema Kamenei rimuove anche il capo della polizia e al suo posto sceglie un ex Pasdaran, già membro della polizia morale, per reprimere le proteste di piazza. No, di Fratelli d'Italia, il partito unico, bocciata la proposta di Berlusconi di creare un grande contenitore conservatore sul modello dei repubblicani americani. Esiste già e si chiama Fratelli d'Italia, dice Fazzolari. Nella Lega intanto Bossi è nuovamente all'attacco di Salvini. È un errore aver impedito che il Comitato del Nord possa sostenere il centrodestra alle regionali in Lombardia. Kevin McCarthy è stato eletto speaker della Camera degli Stati Uniti dopo 15 votazioni, decisivo per la vittoria del Repubblicano e l'intervento di Donald Trump. Molte le concessioni che il neo speaker ha dovuto fare all'affronda dei dissidenti ultraconservatori che avrebbero ottenuto che un singolo deputato possa chiedere il voto di sfiducia per cacciare appunto lui stesso, cioè lo speaker. Un minuto di silenzio sui campi di Serie A per ricordare Gianluca Viali, scomparso ieri allo Juventus Stadium, toccante tributo dei tifosi che hanno omaggiato il capitano della Champions League vinta dal 1996 dal club. Con la sua morte ho perso un fratello, speravo in un miracolo, ha detto il CT Mancini. I funerali si celebreranno in forma privata lunedì a Londra, mentre a Cremona sarà lutto cittadino. Buonasera, bentrovati. Ve lo dicevo poco fa, oggi è la giornata in cui si osserva il Natale ortodosso, il 7 gennaio. In questa giornata c'è stato un intreccio molto forte tra religione e politica, tanto che proprio poco fa il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato la Chiesa ortodossa russa per il suo generoso e proprio un virgolettato sostegno alle truppe che combattono in Ucraina. Questo perché cercheremo adesso di spiegarlo nel servizio, mentre la giornata di tregua, come già vi raccontavamo ieri, è stata interrotta da diversi bombardamenti. Accuse reciproche di violazione della tregua mai accettata da Kiev hanno scandito questi giorni del Natale ortodosso, come le hanno scanditi i missili e gli attacchi che si sono succeduti sui fronti orientale e meridionale. Una finzione per riprendere fiato è la convinzione di Kiev sulla tregua, mentre Mosca continua a inviare uomini e mezzi in Bielorussia e prepara la mobilitazione di un altro mezzo milione di coscritti da inviare nelle future battaglie di primavera. Nel frattempo il conflitto nel giorno del Natale ortodosso è arrivato dentro le chiese. Mentre Putin partecipava da solo alla messa di mezzanotte, nella cattedrale dell'annunciazione del Cremlino, a Kiev ci si preparava quella che a tutti gli effetti sembra la conclusione di uno scisma iniziato quattro anni fa. Per la prima volta nel monumentale e millenario monastero delle grotte, la messa di Natale è stata celebrata in lingua ucraina dal primate della chiesa autocefala di Kiev, Epifanio. Fino al 31 dicembre il sito era in affitto all'ultima e minoritaria comunità affiliata al patriarcato di Mosca. Nonostante le prese di distanza da Kirill e dalla sua adesione totale alla guerra, un terzo della comunità religiosa di Kiev ancora non aveva tagliato le radici da Mosca. Ci ha pensato Zelensky dopo le perquisizioni avviate a novembre nei monasteri in odore di tradimento ha messo al bando quell'ala della chiesa ancora legata a Mosca. Oggi è stata sospesa la cittadinanza, 13 sacerdoti considerati filorussi, trovati con passaporti russi, materiale propagandistico a sostegno dell'invasione e altri documenti secretati. Una mossa subito bollata come satanista dalla portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova. Ma è evidente che la distanza tra Mosca e Kiev ormai sia abissale anche dal punto di vista religioso. Lo dimostra la partecipazione alle messe, a cominciare proprio da quella alla cattedrale delle grotte dove l'ingresso è stato preceduto dai controlli antiterrorismo. Abbiamo vissuto un anno di dolore e distruzione e perdite, ma abbiamo visto la grande impresa del nostro popolo capace di sacrificio e sostegno reciproco. Questa vittoria morale è la più grande, ha detto il patriarca Epifanio. Dal canto suo, Kirill, fedelissimo di Putin, è tornato a insistere sull'unione dei due popoli fratelli figli di un'unica nazione e di una sola chiesa, divisi però dalla politica, la stessa teoria dell'unico popolo che deve essere riunito, su cui Putin ha basato l'invasione di febbraio. Non è una situazione di guerra, di bombardamenti, ma è una situazione altrettanto difficile e complessa quella che sta vivendo l'Iran in queste ultime settimane. Questa mattina fa impressione dirlo così, perché sembra una notizia come tutte le altre, ma sono stati uccisi, impiccati due ragazzi, due manifestanti di poco più di 20 anni accusati di aver ucciso un Pasdaran, una delle guardie rivoluzionari. Queste notizie che arrivano dall'Iran sono purtroppo continue, quasi quotidiane. Oggi però ce n'è un'altra, ancora più importante perché è politica. È stato sostituito il capo della polizia iraniana dalla guida suprema, Ali Khamenei, e l'uomo che adesso è a capo della polizia si era già fatto notare, tra mille virgolette, per le repressioni durante la rivoluzione verde, quella del 2009, sempre in Iran. È un ex Pasdaran il nuovo capo della polizia iraniana. Il generale Ahmad Reza Radham, elemento di spicco della polizia morale e organismo direttamente legato alla guida religiosa, ha ottenuto l'incarico dal governo di Teheran. Una mossa decisa per tentare di gestire l'escalation delle proteste di piazza innescate dalle ultime condanne a morte stamattina all'alba. Mohamed Karami, 22 anni, Seyed Hosseini, 26, sono stati impiccati con l'accusa dell'uccisione a novembre di un membro dei guardiani della rivoluzione nel corso di una manifestazione negata la possibilità di un confronto in aula. Nessuno dei due imputati ha potuto difendersi davanti ai giudici. La famiglia di Karami ha dichiarato che le è stato negato il permesso di vedere il familiare prima dell'impiccagione. Radham, dunque, oggi è il responsabile della sicurezza nazionale incaricato di contenere le manifestazioni antigovernative che vanno avanti da settimane. Proprio per questo si moltiplicano a livello internazionale gli appelli per una moratoria iraniana, almeno per le pene capitali. Il ministro degli esteri italiani riferirà la prossima settimana in Parlamento sull'operato del governo. Teheran, a sua volta, ha difidato il nostro ambasciatore dall'occuparsi di quelle che definisce vicende interne. La presidente dell'Europarlamento, Bezzola, ha chiesto una reazione più forte a livello mondiale contro il regime iraniano. Ma intanto un gruppo di studenti universitari e di altre persone in carcere per aver partecipato alle proteste di piazza in Iran, avrebbe iniziato uno sciopero della fame e della sete contro le impiccagioni dei manifestanti. Ad oggi, in seguito alle proteste per l'uccisione di Masa Amini, la studentessa accusata della polizia morale di non indossare correttamente il velo, sarebbero centinaia in carcere le persone secondo le organizzazioni dei diritti umani. La polizia, inoltre, avrebbe arrestato più di 19.000 persone. È evidente che non si può giudicare la situazione in Iran con le categorie che spesso si usano per semplificazione, per riduzionismo e categorie binarie di bene e male. La situazione è estremamente complessa nel paese. Quello che però è evidente è che queste manifestazioni sono anche il frutto di un disagio economico e sociale che sta vivendo la popolazione sin dal 2009, da quando tentò una prima rivoluzione interna, il cosiddetto Movimento Verde, per chiedere delle riforme anche economiche e sociali all'interno del paese. Vedremo nelle prossime settimane che cosa accadrà, se ci sarà un'evoluzione, un'apertura da parte del regime, oppure una sostituzione con tecnici militari all'interno del paese per cercare di riportare la calma e soprattutto frenare le manifestazioni che per la prima volta si sono diffuse in maniera capillare in tutto il paese. Veniamo alla politica italiana. Vi dicevo che si discute in queste ore all'interno dello schieramento che è al governo della possibilità di un partito unico del centrodestra, una proposta che ha lanciato nei giorni scorsi Silvio Berlusconi, sulla quale Giorgia Meloni aveva manifestato perplessità, almeno così era trapelato dalle indiscrezioni dei giornali. Oggi con un'intervista di Fazzolari, che è un uomo molto vicino alla Premier, sembra essere conclusa questa ipotesi, rimandata al mittente. Un'ipotesi sulla quale bisogna fare attenzione anche perché ha dei riverberi a livello europeo. Non è un caso che proprio due giorni fa c'è stato un incontro tra Giorgia Meloni e Weber, il capo del Partito Popolare europeo, a Palazzo Chigi e dunque potrebbe ventilarsi appunto l'ipotesi di un'alleanza del partito della Meloni che appartiene a alto gruppo rispetto per esempio alla Lega a livello europeo, proprio con il Partito Popolare. Nessun partito unico, Fratelli d'Italia, rimanda al mittente la proposta di Berlusconi di un grande contenitore conservatore sul modello dei repubblicani americani. Se i dubbi della Meloni sono stati solo evocati, oggi è un fedelissimo, come il sottosegretario all'attuazione del programma Fazzolari a dirlo esplicitamente. Il partito unico non c'è, abbiamo già un grande partito conservatore ed è Fratelli d'Italia. Geometria che Fazzolari rivendica anche a Bruxelles, dove l'intuizione spiega sarebbe stata quella di non fare asse con gli anti-europeisti, riferimento a Salvini è implicito, ma piuttosto di guidare i conservatori, che oggi aspirano ad un patto con i popolari per spezzare l'alleanza con i socialisti in difficoltà per il Qatargate. In questa chiave la Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il leader dei popolari Weber. Grandi manovre che potrebbero aver ispirato la mossa di Berlusconi, finora cinghia di collegamento tra popolari e sovranisti, per non finire ai margini con un partito in emorragia di voti. Così la risposta di Fratelli d'Italia va di traverso agli azzurri. Berlusconi è stato come sempre generoso, spiega Maurizio Gasparri, alcuni rispondono dicendo che hanno già autonomamente creato questo modello, ma nessuno è autosufficiente. Per governare non basta il 20 o il 30%, ma bisogna superare il 40%. Gasparri trasla la questione anche in chiave europea, sottolineando che Forza Italia fa parte dei popolari e svolge una funzione fondamentale per la costruzione di una maggioranza moderata aperta ai conservatori, rivendicando il ruolo di garante svolto finora dagli azzurri. La Lega invece, che sembra considerare la proposta fuori tempo massimo, deve fare i conti con i sussulti interni. L'anziano leader Bossi non ferma l'offensiva e va all'attacco di Salvini. E' un errore, un'occasione persa, dice, aver impedito che il Comitato del Nord possa sostenere la coalizione del centro-destra alle regionali in Lombardia. Ma per ora non sembra voler firmare nessuno strappo, nessun flirt con altri candidati, vedi Letizia Moratti, seppur non ufficialmente il Comitato, sosterrà il governatore uscente Fontana. Si diceva nel servizio di Marenella Resta di questa possibile alleanza futura con il Partito Popolare Europeo di Weber. Certo è che c'è un tema che rischia di essere di scontro tra il Partito di Governo in Italia e per esempio il Partito Popolare, ovvero la gestione dei migranti, sul quale l'Unione Europea ancora non riesce a trovare una linea comune. Proprio in questi giorni il tema si è riproposto forte in Italia perché sono stati diversi i salvataggi in mare. Protagonista di questi salvataggi è stata spesso la nave di Medici Senza Frontiere, la Geo Barents. Nei giorni scorsi due soccorsi, oggi uno nuovo a largo delle acque internazionali della Libia. Era appena tornata in mare per la sua 22esima missione, dopo lo sbarco lunedì scorso a Taranto di 85 migranti salvati da un naufragio. La Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, ha soccorso altre 73 persone, tra cui 16 minori non accompagnati. Si trovavano a bordo di un gommone in difficoltà in acqua internazionale a largo della Libia. Stanno tutti bene, assistiti dall'equipe medica dell'ONG, che adesso dovrà dirigersi verso il porto di Ancona per lo sbarco dei migranti. Lo stesso assegnato alla Ocean Viking di SOS Mediterranea, che ha soccorso 37 persone, ma entrambe le ONG chiedono l'assegnazione di un porto sicuro più vicino, come previsto sostengono dalle leggi internazionali marittime. Ancona si trova ad oltre 1.500 chilometri distante dalle operazioni, almeno dai 3 ai 5 giorni di navigazione e le previsioni del tempo sono in peggioramento da domenica notte. Le ONG tornano a puntare il dito sulle politiche sull'immigrazione dell'Europa e dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Politiche che producono morti, denuncia Medici Senza Frontiere, come accaduto ieri nel naufragio a 38 migli a largo di Lampedusa, nel quale hanno perso la vita una bambina di appena 18 mesi e un uomo e una donna di 38 anni originari della costa d'Avorio. Sono le ultime vittime dell'ennesimo naufragio a largo dell'isola siciliana, dove gli sbarchi non si fermano mai. Siamo in guerra, una guerra silenziosa che molti ignorano, fanno finta di ignorare, lamenta il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, che chiede al ministro dell'interno di venire sull'isola per rendersi conto di persona. Serve una legge speciale per Lampedusa che aiuti concretamente a gestire questo fenomeno. In appena 7 mesi di mandato il sindaco ha colto i cadaveri di 20 adulti e 7 bambini nel 2022 e due adulti e un bimbo in questo inizio d'anno. Spero che il governo Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi si ravvedano e nelle mille proroghe concedano al nostro comune gli aiuti promessi, aggiunge Mannino, che lunedì nel vertice convocato in prefettura da Grigento incontrerà Piantedosi e il capo della polizia Giannini. La questione migranti sarà probabilmente discussa lunedì a Roma a margine del faccia a tra la Premier Meloni e la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Questione complessa che in questi mesi ha visto un inasprimento delle posizioni che ha portato allo scontro con Parigi e al varo del decreto con la stretta sulle ONG. E proprio a Bruxelles avete visto la bandiera dell'Unione dietro le spalle di Meloni e von der Leyen. Proprio da Bruxelles arrivano le novità del Qatargate, o meglio dalla Procura di Brescia che però a quell'inchiesta sono legate, perché Silvia Panseri, che è la figlia di Antonio Panseri, l'ex eurodeputato detenuto a Bruxelles e finito appunto nell'inchiesta del Qatargate, resterà Silvia Panseri agli arresti domiciliari. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Brescia che hanno respinto la richiesta di libertà avanzata dai legali della donna o anche l'obbligo di firma per farle esercitare la sua professione di avvocato. Per i giudici di Brescia è dunque giusta la misura cautelare rispettando il mandato di arresto europeo che è stato richiesto appunto dal Belgio. I difensori contestano anche il congelamento dei 200 mila euro sul conto corrente di Panseri. Sarebbero compensi, spiegano frutto della sua attività professionale di legale. E adesso torniamo su un'altra vicenda, quella di Alfredo Cospito, rappresentante degli anarco-insurrezionalisti che come sapete è in carcere, è stato condannato a dieci anni per aver gambizzato una persona e per un attentato dimostrativo in cui nessuno però è rimasto questo ferito. Tutti reati importanti, gravi per i quali naturalmente c'è stata la condanna ma che non prevedono assolutamente l'utilizzo, almeno fino a questo momento così era stato, del regime del 41 bis. Nonostante tutte le richieste di appello non è stato sospeso il 41 bis, adesso un gruppo di giuristi e di intellettuali stanno raccogliendo le firme proprio per aiutarlo anche perché Cospito è all'ottantesimo giorno di sciopero della fame proprio per questo. Fate un gesto di umanità e coraggio per Alfredo Cospito che ha un passo dalla morte nel carcere di Sassari per uno sciopero della fame che dura ormai da 80 giorni. Non era mai successo che un gruppo di giuristi e di intellettuali, fra i firmatari c'è anche un ex ministro della giustizia, nonché ex presidente della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick, scrivesse un appello in favore di un detenuto al 41 bis. Il caso è quello di Cospito, l'anarchico già condannato per l'agguato, una gambizzazione a un dirigente di avanzado nucleare, pena scontata e ora rinchiuso con regime carcerario duro, solitamente riservato ai boss, per l'attentato nel 2006 a una caserma dei carabinieri. Non fece vittime né feriti. La Cassazione ha chiesto di condannare Cospito per strage politica, reato che prevede l'ergastolo stativo e non è stato riconosciuto neanche per capaci. La Corte d'Appello di Torino ha investito la consulta considerando la lieve entità della vicenda. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il ricorso contro il 41 bis e ora si attende un nuovo passaggio in Cassazione. Il problema è che Cospito non può aspettare a lungo. Ha perso 35 chili e nelle scorse settimane ha avuto un calo di potassio che potrebbe compromettere il cuore. Il suo non è un blef. In aula a Torino ha letto una dichiarazione in cui annuncia che continuerà il suo digiuno fino all'ultimo respiro e ha inviato una lettera al suo avvocato nella quale dice che si opporrà con tutte le forze all'alimentazione forzata perché la vita non ha senso in questa tomba per vivi. L'aria è ridotta a due ore al giorno che trascorre in un cubicolo di cemento di pochi metri quadri. La socialità un'ora in una saletta insieme ad altri tre detenuti. Nell'Appello, firmato tra gli altri, oltre che da Flick, dall'ex PM di Mani Pulite Colombo, Don Ciotti di Libera, il filosofo Cacciari, il presidente delle Camere Penali Cagliazza, si chiede al governo e amministrazione giudiziaria di non tradire la Costituzione che pone in cima ai valori la vita umana, sta qui la differenza fra gli stati democratici e i regimi autoritari. Nelle scorse settimane il ministro Nordio, nella risposta a un'interrogazione parlamentare, disse di aver sostanzialmente le mani legate dopo la conferma del 41 bis da parte del Tribunale di Sorvedianza. Una soluzione ora potrebbe essere una rapida fissazione del ricorso in Cassazione, proprio per rimuovere il regime duro. Evidente che si tratta di una battaglia per i diritti civili. Andiamo negli Stati Uniti, vi dicevo che sono, seppure ne hanno viste di ogni, sull'utilizzo delle armi, gli Stati Uniti sono sotto shock per un ennesimo episodio, accaduto questa volta in una scuola elementare di Newport, siamo in Virginia, qui un bambino di appena sei anni ha estratto in classe una pistola, l'ha puntata contro la maestra e ha sparato, offrendole in modo molto grave. La donna ha 30 anni e in gravi condizioni, il bambino è stato ovviamente immediatamente portato in custodia alla locale stazione di polizia, dove si cerca di capire come si sia procurato l'arma e di capire se la famiglia abbia avuto un ruolo, cioè se l'abbia armato prima di mandarlo a scuola. E restiamo negli Stati Uniti perché dopo 15 votazioni, lo speaker della Camera Kevin McCartney ce l'ha fatta, vi abbiamo raccontato in questi giorni le difficoltà per la sua elezione, ma ha dovuto fare delle concessioni importanti all'ala dei cosiddetti ribelli del partito repubblicano e l'intervento di Donald Trump non è stato poco importante. Alla fine il repubblicano Kevin McCartney ce l'ha fatta. Alla quindicesima votazione, cosa che non accadeva dal 1859, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti l'ha eletto speaker, presidente, la terza carica dopo l'inquilino della Casa Bianca. Si è chiusa una vicenda complessa e a tratti grottesca che ha scossa alle fondamenta il partito repubblicano con un manipolo di deputati ultraconservatori che si rifiutavano di votare McCartney perché, a loro dire, non abbastanza ortodosso. Decisivo è stato l'intervento a suo favore dell'ex presidente Donald Trump che agli inizi di gennaio durante un'intervista alla NBC era stato molto evasivo sulla sua volontà di appoggiarlo ma alla fine Trump ha buttato il suo peso nella contesa e se qualcuno avesse dei dubbi basta vedere questa foto dove la deputata Taylor Greene passa il telefono ad uno dei dissidenti, Matt Rosendale, sullo schermo la sigla DT ad indicare chi fosse a chiamare. McCartney ha poi ringraziato Trump che a sua volta ha risposto scrivendo sui social Grazie Kevin, è stato un grandissimo onore Il partito repubblicano si è davvero unito la notte scorsa è stata una bellissima cosa da vedere, storica Anche il presidente Biden si è congratulato con McCartney dicendosi pronto a lavorare con i repubblicani ogni qual volta sarà possibile Idem Zelensky, che sa bene come parte dei repubblicani sia perplessa sul continuo invio di armi Noi, ha scritto il presidente ucraino, contiamo sull'appoggio continuato e su una cresciuta assistenza da parte degli Stati Uniti per condurci alla nostra comune vittoria Adesso comincia il lavoro duro, ha detto McCartney nel suo primo discorso che ha spaziato sui temi che gli stanno più a cuore dal controllo dei confini col Messico al confronto con la Cina dalle indagini sull'amministrazione Biden al contenimento della spesa pubblica dove potrebbero, a breve, ripetersi le linee di stallo tra i repubblicani al momento di votare l'innalzamento al tetto del debito che puntualmente crea frizioni già a cose normali Non a caso il Washington Post ha scritto che questa elezione ha dimostrato l'ingovernabilità interna, ancora una volta, del partito repubblicano Torniamo sulla vicenda di Gianluca Viali, sulla sua scomparsa Oggi ha rotto il silenzio una delle persone a lui più care, più fraterne, più vicine il Cittadino Nazionale, Roberto Mancini La scomparsa di Viali ha fatto capire quanta stima e amore provi il nostro paese per l'uomo e per il campione Non si sono fermati i messaggi e le testimonianze di affetto da brividi stasera il minuto di silenzio e il successivo tributo allo Juventus Stadium prima di Juventus di mese In questo mare di riconoscimenti mancava quello forse più atteso Quello di Roberto Mancini Ha voluto aspettare in qualche modo elaborare il lutto e alla fine attraverso la Federcalcio che ha prodotto l'intervista abbiamo potuto conoscere il suo stato d'animo Noi abbiamo vissuto quasi tutta la nostra vita assieme e quindi c'è un legame stretto, un legame che veramente possono avere due fratelli poi due persone che poi a un certo punto della loro vita si sono separate perché calcisticamente siamo divisi però quando si è amici, si è amici per sempre e quindi Luca per me era questo il nostro rapporto è sempre stato di grande rispetto, affetto, amore, amicizia Mancini era andato a far visita a Gianluca Viali una decina di giorni fa sapeva che la situazione era difficilissima ma non ha abbandonato la speranza Speravo che accadesse qualcosa, speravo in un miracolo sinceramente Siamo visti, abbiamo parlato, abbiamo scherzato quindi era sempre di buon umore come al solito e questo un po' ti risolleva perché mi ha fatto piacere vederlo che era di buon umore in quel momento A Genova e a Londra continuano le testimonianze di affetto da parte dei tifosi della gente comune, marassi come Stamford Bridge sempre a Londra lunedì funerali in forma strettamente privata mentre a Cremona, la città dove Viali è nato sarà giorno di lutto cittadino e alle 18.30 verrà celebrata una messa di suffragio nella parrocchia di Cristo Re il posto dove un piccolo Gianluca cominciò a sognare di diventare un campione Dopo di noi ospiti questa sera di Nonda sono Alessio D'Amato, Annalisa Cuzzocrea, Lorenzo Pregliasco e Stefano Zurlo ci fermiamo qualche istante per i consigli per gli acquisti e poi torniamo per gli aggiornamenti Ecco ci siamo di nuovo in diretta non ci sono ulteriori aggiornamenti a darvi passo la linea a Mariana Aprile e Luca Telese per Inonda grazie per l'attenzione ci vediamo se volete domani poco prima delle 20 buona serata grazie a tutti